sempre della Yves Rocher spero ve la metta a fuoco ecco qua questa è davvero davvero buonissima inizialmente la stavo usando due volte a settimana ma mi appesantisce un po' i capelli invece va utilizzata una sola volta a settimana e io nello specifico la utilizzo solo ed esclusivamente sulle punte risciacquando benissimo ha un'ottima profumazione che vi rimane a lungo ed è alla vena quindi prodotto chiaramente del tutto naturale come sempre tutti i prodotti Rocher sono questo nello specifico è da 150 ml ed è indicata per capelli secchi molto molto buona la colorazione è bianca molto neutra eccola qua si presenta così l'ho già utilizzata quasi per tutto il mese di maggio facendo un trattamento a settimana e mi ci trovo davvero molto molto bene poi sono anche passata in profumeria Mario No ecco qua la mia bustina e vi faccio vedere che cosa ho comprato allora da Mario No come prima cosa avevo comprato l'atomizzatore da borsetta quello che vi avevo detto l'universale con l'aggancio per tutte le tipologie di boccetta di profumo che poi voi caricate a vostro piacimento con il vostro profumo preferito io qui dentro ho ancora Narciso è buonissimo non posso fare a meno di odorarlo è veramente spettacolare e un'altra cosa che ho acquistato da Mario No così per caso perché non avevo intenzione di acquistarla ma mi sembrava davvero una cosa interessante è questa palette qua come vedete è una palette 32 colori l'ho pagata c'è ancora il prezzo qui su in alto 9,90€ per tutti questi colori mi sembrava un buon prezzo tra l'altro l'ho vista lì aperta e mi era sembrata davvero interessante scusate le ditate lo so che è qualcosa di osceno però è quasi impossibile non tenerle pulitissime ad ogni modo si presenta così la aprite e ci sono i tre pennellini qua si dice sgrausi non lo so voi chiamateli come volete ad ogni modo non rendono sono due pennellini che non servono a niente questi sono tutti i colori i colori sono ottimi e sono anche molto scriventi ve ne faccio vedere qualcuno questo è un beige un dorato vi faccio vedere questo bellissimo rosa tramonto che ho già utilizzato più di una volta è splendido questo è molto molto bello un arancio sono davvero dei colori molto scriventi vi faccio vedere anche questo verde qui su in alto eccolo qua guardate che spettacolo questo colore è meraviglioso vi faccio vedere questo azzurro vi faccio vedere i colori che più o meno mi piacciono di più guardate che meraviglia che sono questi colori cioè qualcosa di pazzesco per dire che l'ho pagato davvero così poco sono rimasta davvero molto colpita da questa palette guardate il viola quanto è bello vi faccio vedere infine questo rosa che ho già utilizzato più di una volta molto 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 carino anche questo questi sono i colori per gli occhi poi aprendo la palettina ci sono anche i blush e i rossetti hanno tutti un'ottima scrivenza anche questi e mi piace da morire il fatto che per quanto riguarda i blush ci siano davvero moltissime colorazioni un pesca rosato un rosa qualcosa che va un po' più sul beige e anche la scala cromatica dei rossetti rispecchia moltissimo le varie esigenze oppure i vari trucchi che decidete di fare i vari make up che avete in quella determinata giornata quindi per 9,90 euro mi è sembrata un'ottima palette Mario No ha fatto la sua collezione di palettes e questa era forse quella che costava un po' meno ce ne sono delle altre intorno ai 12-15 euro che valgono davvero la pena e che hanno moltissimi colori tra i 50 e i 60 se state cercando qualche palette così con tanti colori e molto scrivente e non volete spendere tanto non volete fare alcuna ordinazione dei siti stranieri io vi consiglio di fare un salto in profumeria se poi avete anche dei buoni omaggio come nel mio caso avete anche degli sconti io ho usufruito di uno sconto di 5 euro del mese di maggio e questa era una delle ultime palettine che ho acquistato poi farò qualche tutorial con questi trucchi magari se avete anche qualche richiesta fatemelo sapere da Mario No invece l'ha commesso tanto gentile che sa che adoro il perfumo di Gucci Flora mi ha dato due campioncini ecco perché non apro ancora il nuovo regalino di Gucci perché ho questi due campioncini che sto terminando e questo appunto come vi dicevo è il Gorgeous Gardenia che è la mia profumazione preferita fra le tre floreali estive di Gucci è veramente qualcosa di incredibile è pazzesco poi la commessa mi ha dato una campioncino di Flora nella versione classica però all fresh non quindi il profumo che rimane un po' più pesante ma la versione estiva un po' più leggera meno alcolica diciamo anche questo è davvero molto buono poi sempre molto gentile mi ha omaggiato di Dolce Gabbana light blue da uomo per il mio ragazzo che non metterà mai perché lo conosco come le mie tasche e che quindi andrà ad un mio caro collega e poi infine cosa che non avevo neanche notato sinceramente mi ha dato un campioncino di questo latte per il corpo la Bastiden che non conoscevo proprio come marchio quindi lo proverò questo nello specifico è ai fiori d'arancio mi piace molto come si presenta questa confezione così argentata è molto sofisticata molto di classe il prodotto invece che vi faccio vedere ora l'ho acquistato nel negozio Madina che c'è all'outlet di Firenza non mi hanno dato una bustina quindi l'ho messo insieme a questi prodottini di Mario No ed è questo pigmento qua di questo bel colore arancio che ancora non ho utilizzato l'ho soltanto sfociato sulla mano rilascia molti micro glitter ha comunque una bella colorazione abbastanza intensa poi vedrò di realizzare qualche qualche make up e di indossarlo la scrivenza è buona ma non eccellente nel senso che non è scriventissimo voglio poi provarlo sulla palpebra applicando un mattitone bianco per vedere che effetto fa infine le ultime cosine che mi restano da farvi vedere sono quelle che ho acquistato da Sephora i primi due prodotti che vi faccio vedere sono due prodotti che ho acquistato della Collistar che sono questi due prodotti qua sono entrambi prodotti per le labbra il primo che vi faccio vedere è questo top gloss stick brillantezza estrema sono entrambi colorazioni molto nude molto neutra adatta sicuramente per l'estate e per la pelle un po' più abbronzata adoro le confezioni di Collistar che sembrano dei fiori così che si aprono hanno la parte sotto dorata e la parte sopra il tappo generalmente rosa questo l'ho già utilizzato abbastanza come vedete è un colore molto molto bello avevo qualcosa di simile di Kiko solo che quello di Kiko rimane molto più perlato ve lo faccio vedere sfucciato sulla mano è davvero bellissimo è molto cremoso eccolo qua è proprio un nude perfetto direi e anche l'odore è davvero ottimo molto dolce molto vanigliato poi io sono molto ordinata come vedete rimetto tutto nelle proprie confezioni ma questo procedimento durerà molto poco e poi l'ultimo prodotto che ho comprato invece sempre di Collistar è un lip gloss questo è super gloss scintillante effetto sole ha anche una protezione 15 quindi è anche ideale se per caso andate in piscina o in spiaggia io ovviamente non lo faccio però tante persone amano truccarsi quando vanno al mare e di conseguenza questo dà anche una determinata protezione ve lo faccio vedere sfucciato sulla mano è veramente molto molto gloss a me piace tantissimo eccolo qua si vede un po' il riflesso perché comunque è abbastanza trasparente e rilascia dei micro glitter molto molto carini mi piace molto utilizzarlo sopra il top gloss nude dà un bellissimo effetto ecco qua stesso procedimento rimetto tutto dentro che brava e poi ho acquistato da Sephora il loro struccante per occhi bifasico questo è ottimo l'ho già provato rimuove perfettamente senza alcuna fatica anche il mascara waterproof è effettivamente un waterproof eye makeup remover quindi è un ottimo prodotto per per struccare gli occhi ed è anche molto delicato è un bifasico come vedete la parte bianca e la parte blu vanno mischiate insieme e dopo averle mischiate potete andare ad utilizzarlo tranquillamente con un batifolo di cotone io infatti lo utilizzo con i dischetti normalissimi poi infine l'ultima cosina che ho comprato ed è proprio proprio l'ultima poi vi farò vedere i due campioncini ma niente di che è questa palette qua allora se ho comprato questa palette c'è qualcuno che ne ha colpa ed è la mia carissima carissima fantastica lacrimuccia io seguo sempre i suoi video e lei utilizza tantissimo le palette della Sleek volevo ordinarle volevo ordinare queste palette poi ho scoperto che in anteprima Sephora ha la collezione della Sleek della iDivine le vedevo continuamente nei tutorial di lacrimuccia ho continuato a guardare il sito per mesi di seguito non avevo ancora deciso e invece proprio quando stavo per decidere di andarla a comprare le ho trovate in negozio questa è la O'Naturel nel numero 601 è piccolina è molto maneggevole adesso ve la faccio vedere è fatta così molto sottile come vedete e ha la scritta Sleek frontale vi faccio vedere adesso all'interno le varie colorazioni ancora qua tengo su il nylon così potete vedere anche le varie colorazioni e questa palette oltre ad avere dei colori davvero molto molto scriventi ha dei colori che sono bellissimi alcuni dei colori sono matte e altri sono particolarmente shimmer il problema che ho riscontrato io dopo l'acquisto è sul nero come vedete è completamente rovinato sono riuscita a ricompattarlo come se fosse un pigmento perché era davvero molto sbriciolato e mi si erano sporcati anche i colori attorno sono riuscita bene o male a pulirli ho ricompattato il nero mi è rimasto un po' rovinato però bene o male il nero è comunque una colorazione che utilizzo di meno e la utilizzo più per fare le sfumature quindi utilizzo sempre meno prodotto rispetto agli altri il rumore che sentite è il simpatico spazzino che passa dopo i giorni di mercato a ripulire bene le strade quindi mi chiedo scusa e niente all'interno trovate anche un pennellino un applicatore che è davvero molto valido ho già provato ad utilizzarlo lo trovo molto molto valido come applicatore e le punte sono abbastanza rigide applicano bene sono abbastanza precise e queste palettine qua quindi le ho viste sempre utilizzate da Malou da Lacrimuccia e me ne sono innamorata quindi la colpa se le ho prese Malou è tutta tua ad ogni modo sono molto soddisfatta di averle prese sul sito costano quanto è il negozio quindi 9,90 euro non tanto per il prodotto davvero di qualità sul sito avrei dovuto pagare le spese di spedizione chiaramente il negozio e sono stata più che contenta di prenderle di questa palette oltre al fatto che sia maneggevole mi piace molto che ogni colore ha il suo nome questa è una cosa davvero davvero bellissima ecco qua vi rimetto la scritta questa è una cosa che mi piace davvero tanto per finire da Sephora mi hanno regalato un campioncino di moschino pink bouquet da donna e un campioncino di moschino forever da uomo che chiaramente andrà al mio collega come già sapete questo era l'ultimo acquisto ho registrato tantissimo spero che questo video non venga tanto lungo cercherò di tagliuzzare il più possibile spero non vi abbia annoiato se avete delle domande da farmi chiaramente lasciatele giù nei commenti io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao